Buongiorno a tutti ragazzi qui Frost e bentornati in un nuovo video Allora, tempo fa ragazzi vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto portarvi un'altra tipologia di format di live Differentemente da quelle che avete visto finora Finora ragazzi voi avete visto il Frost in modalità online, o meglio, il Frost che gioca ad un multiplayer Ma com'è il Frost che gioca ad un single player? Ecco, sono qua oggi proprio per spiegarvelo Vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto portare dei titoli single player e lì porterò Abbiamo alle porte un Devil Within 2 che hanno già iniziato in molti ma io non ho ancora acquistato Quindi quando lo acquisterò lo farò Abbiamo un Wolfenstein The New Colossus che sarà, diciamo, penso il principio delle live di questo tipo E volevo un attimo spiegarvi cosa accadrà e cosa succederà Allora, diciamo che saranno live completamente diverse Nel senso, appunto, vedrete un giocatore come me Che gioca in single player Com'è il Frost in single player? È molto differente rispetto al multiplayer Perché? Perché non gioco in single player ovviamente bisogna fare molta ma molta più attenzione Soprattutto io sono uno di quei tipi di giocatori che Fa dei monologhi con se stesso Parla dell'ambiente circostante Magari posso fermarsi anche su un'arma a guardarla e dire Ok, è fatto in questo modo, carino, perché questo, perché quest'altro Posso fermarmi varie volte per analizzare l'ambiente Per quello che sta succedendo Perché appunto sono uno di quei giocatori che sta molto molto attento a qualsiasi cosa che abbia intorno Ok? Per farvi un esempio Sono un Soul Player quindi potete benissimo capire Con quale minuziosa attenzione guardo ogni singola cosa Giusto per capire Perfetto Quindi Quello che voglio dirvi è che saranno live Principalmente dirette ad un pubblico abbastanza maturo In quanto Per esempio nelle scene, nelle cutscene o appunto nelle scene dove c'è del parlato Starò zitto e ascolterò Non guarderò molto la chat perché appunto mi voglio godere al 100% il titolo Però assieme a voi Perché? Perché secondo me anche questo è un feeling carino Da appunto portare tra me e voi insomma Perché alla fine non vedete soltanto me in versione multiplayer Ma vedete anche me come giocatore da singolo quindi single player E la cosa secondo me è veramente interessante Perché comunque ci potremmo fermare Potremmo analizzare assieme le cose, parlarne E soprattutto vedrete la differenza tra il multiplayer e il single player Ovviamente sono una persona completamente diversa nel single player Dipende dalle situazioni Se per caso mi viene l'embolo potrebbe partirmi lo schizzo Potrei cominciare a massacrare gente a tutt'andare E sembrare un sadico oppure sembrare il migliore Alberto Angela Che voi avete mai visto Giusto per fare un esempio Quindi ragazzi miei Partiranno questi format a breve Spero che vi piace l'idea Spero soprattutto di riuscire a condividere con voi questa cosa Perché secondo me è veramente veramente importante Mi raccomando Io vi ho avvertito Non è che dopo dite Eh ma passa su Rainbow Oppure fai questo Salutami salutami Ripeto Saranno live differenti Un po' più mature Quindi mi aspetto un po' più di Se caso tranquillità Ma una tranquillità intellettuale diciamo Nel senso possiamo parlarci tranquillamente Senza nessun problema Ma non sarà una live così frenetica Come quelle di Rainbow Per esempio Nel senso non frenetica Nel senso che è lenta che è noiosa Ma del fatto che non starò sempre E li continuo a leggere Perché voglio farvi vedere Come il Frost Si gode un gioco in single player Ma con voi assieme Come se fossimo Non so Quando da piccolini Giocavate con i vostri amici Guardavate l'amichetto Giocare Ok Io mi divertivo un sacco A fare una cosa del genere Perché vedevo Non tanto lui che giocava Ma riuscivo a analizzare completamente La cosa come se fosse un film In pratica Vabbè dai Penso di aver detto tutto quanto Grazie mille ragazzi Di avermi ancora ascoltato Noi ci vediamo A breve Con il nuovo format Ciao ragazzi E buona continuazione di giornata